ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono tecno gg oggi un boxing di un prodotto che mi sono comprato allora se andate a vedere anche sul mio profilo instagram che si chiamano stesso nome su tecno gg e faccio vedere alcuni prodotti che sto acquistando ci sarà anche metterò tutti insieme dei prodotti da farvi vedere per un video speciale che uscirà a marzo ora andiamo ad aprire la scatola dell'unboxing all'interno della scatola abbiamo questo tipo di marca questa è la scatola eccolo qua all'interno troviamo un portafoglio ragazzi non mi chiedete il colore di questo portafoglio ma ho sbagliato a prendere il colore infatti dovevo prendermelo di colore blu comunque non è male allora questo portafoglio della macca bevmer in cui questo tipo di marca fa dei portafogli molto stati dalle persone molto compatto molto piccolo e all'interno della confezione troviamo anche il manuale delle istruzioni per capire come funziona il prodotto come quante tessere si possono mettere quante carte come in bloccare la carta eccetera allora in questo il portafoglio si apre in questo modo poi nella recensione completa vi farò vedere meglio qui si mettono i soldi in contanti qui in questo modo molto rapido il clip che si chiude facilmente e si apre in modo molto ma molto veloce molto piccolo come vi ho detto molto leggero questi clip per chiuderlo e ci sta anche il tasto con questo tappo vi permette di far uscire in automatico le vostre carte se non mi sbaglio potete mettere fino a cinque carte non è finita qui poi abbiamo anche il taschino con la cignera mannaggia a me che l'ho preso di colore marrone invece del blu ci sono diversi colori prendere questo tipo di portafoglio ecco qui qui potete mettere le vostre piccole monete io ce l'ho troppe infatti cavolo me se avete sentito il rumore a posto e poi vi faccio vedere anche la differenza di grandezza rispetto all'altro portafoglio questo è un altro portafoglio piccolino a clip in cui si apre in questo modo in cui potete mettere qualsiasi cosa i vostri soldi i vostri guadagni però rispetto a questo qua ci sono delle unità importanti molto più comodo qui avete la possibilità di mettere i soldi in contanti in modo più semplice più compatto sicuramente è un'ottima scelta da fare avete anche la possibilità di estrarre direttamente le carte con questo bottone che è molto più bello e secondo me questa è una novità molto importante da questo tipo di azienda e poi finalmente quello che mancava a me dall'altro portafoglio la possibilità di mettere le monete piccolina con questo è tutto ragazzi in questo piccolo unboxing ora ci sarà la recensione completa con altri prodotti che sicuramente vi farò vedere con questo è tutto un saluto da technology g alla prossima ciao ragazzi